Quando si pensa a infrastrutture strategiche per lo sviluppo di Firenze, l'attenzione del Governo nazionale si focalizza sempre sulle stesse due opere, aeroporto e tramvia. Quello che sembra invece essere leggermente mutato con il Governo Renzi è la dimensione dei progetti. Se fino a pochi mesi fa lo sviluppo delle linee 2 e 3 della metropolitana di superficie sembrava essere contestuale all'area cittadina, al Ministero delle Infrastrutture oggi si ragiona su scala metropolitana. Stiamo lavorando ora sulla parte che riguarda il sottottraversamento con destinazione Bagnarripoli e stiamo lavorando perché vi stiamo finanziamento anche per quella tratta lì, previsione intorno ai 200 milioni di euro. Obiettivo concludere i lavori entro il 2017. Ben prima dovrà invece costituirsi la holding unica tra Pisa e Firenze per costruire il nuovo polo aeroportuale toscano. Ma anche qui se il Ministro Corrado Passera nel 2012 aveva declassato Peretola a scalo di serie B, le intenzioni di Roma oggi sembrano essere molto diverse. La mia opinione su Firenze non cambia, serve una pista adeguata ad una città straordinaria come questa. Il Ministero condivide l'ipotesi di 2400 metri. Un ultimo capitolo il Vice Ministro Nencini lo riserva invece a Piombino dove l'acciaieria sopravviverà grazie all'arrivo di 28 navi militari da smaltire. C'è un lavoro in corso anche per quanto riguarda la Concordia, soprattutto c'è un impegno di Palazzo Chigi ad avere una destinazione italiana intanto per la Concordia. Inutile illudersi dunque che anche il relitto della costa faccia rotta su Piombino.